Al Museo Poldi Pezzoli a Milano è in corso una mostra straordinaria, un evento, ecco questa è parola abusata che si usa troppo spesso per cose anche piccole, in questo caso è veramente un evento eccezionale. Viene infatti ricostruito con le tavole superstiti il politico di Sant'Agostino di Piero della Francesca. Il Museo Poldi Pezzoli ha già nelle sue collezioni una tavola di questo politico con San Nicola da Tolentino, ma ecco il grande lavoro, veramente il grande coraggio, la grande opportunità di ricostruire proprio questo politico smembrato e disperso, con opere che arrivano dalla National Gallery di Londra, che arrivano dal Museo Nazionale di Lisbona, da New York, da tante parti in tutto il mondo ed è una meraviglia. Siamo proprio ai livelli massimi della pittura del rinascimento. Piero della Francesca lavora a quest'opera fra il 1454 e il 1469, quando cioè ha già 40-50 anni, è già famoso, importante e realizza questo politico per la chiesa di Sant'Agostino a Sansepolcro, cioè proprio il suo borgo, la sua città dove è nato, dove vive, dove è ben conosciuto. Forse anche per questo si permette una certa libertà. Questo politico, infatti, basta vederlo, è veramente innovativo, per non dire rivoluzionario. Le figure intere dei Santi non hanno più il solito fondo oro arcaico, trecentesco, ma si vede proprio il cielo azzurro, si vede una balaustra marmorea che collega tutti questi personaggi, queste figure, che sono lì da vedere. Io proprio vi invito, andate a vedere questa mostra perché è eccezionale, a cominciare dalla figura di Sant'Agostino che arriva da Lisbona. La bellezza proprio di questa immagine, ma soprattutto la preziosità della pittura. Si noti sul piviale del Vescovo tutti gli episodi della vita di Gesù. Il santo Vescovo Agostino è proprio ammantato della parola di Dio, della vita di Cristo. Ma anche il San Giovanni Evangelista, eccezionale, con un ritratto così realistico, dove si vedono perfino le imperfezioni della pelle, proprio secondo quello che voleva la scuola fiamminga, alla quale Piero della Francesca è molto attenta. Un San Giovanni Evangelista che non è il solito adolescente, giovanissimo apostolo, il prediletto di Gesù, perché è proprio anziano, con questi capelli, la barba bianca, è piuttosto il veggente di Patmos, colui che ha ricevuto proprio la rivelazione, l'apocalisse che scriverà. E poi anche le altre figure, San Nicola da Tolentino l'abbiamo detto, per fortuna è sempre qui a Milano, al Pol di Pezzoli, ma che dire dell'Arcangelo Michele alla National Gallery di Londra. Una figura contrastante, perché è un guerriero, è un soldato, lo vediamo, l'armatura, le armi, un'armatura però che è tutta ingentilita, proprio da gioielli, da pietre preziose, e tiene in mano questa testa del serpente, il serpente antico, il drago, Satana, che ha sconfitto, come ci dice proprio l'Apocalisse. E in basso un piccolo dettaglio che però è straordinario, rivelatore. Si vede il lembo di un mantello damascato ricchissimo, che quasi certamente è quello di Maria. Al centro quindi, ahimè, una tavola perduta, però che molto probabilmente era proprio la Madonna. Ma non la Madonna in trono, come fino ad oggi si era un po' supposto, molto probabilmente è proprio l'incoronazione di Maria, il momento in cui la Vergine viene incoronata. Insomma, un evento, lo ripeto ancora una volta, eccezionale, assolutamente da non perdere. La grande arte di Piero della Francesca.